Sì, è servito a chiudere la partita e sicuramente è stato importantissimo portare a casa il risultato perché avendo fatto questo terzo risultato consecutivo dà morale e fiducia alla squadra e sappiamo che abbiamo mezzi importanti per far bene. Tu soffri molto, si soffri molto in panchina, ma poi quando si va in campo e si segna, insomma c'è i sacrifici, vaigono? Sì, ma anche lavorare duro in allenamento sicuramente porta i suoi risultati e stiamo facendo molto bene col mister. L'elica di questo gol? Sicuramente a mio padre che non è potuto venire a vedere la partita perché è la prima volta che salta una partita in casa perché è malato e è la mia ragazza. E' il pubblico ben conosco o no? Sicuramente, sicuramente, forse prima di tutti ecco. Tu sei stato freddo, hai aspettato Alfonso, poi ti sei accentrato, poi sembrava che non tirassi mai perché insomma poi quando stiamo seduti sembra tutto facile e invece poi l'hai buttata dentro. Mi dicono che ti sei messo a piangere dalla gioia. Quasi a piangere, dai non mi sono messo a piangere, però è un'emozione unica, indescrivibile. Per chi non è ancora assegnato in Serie B è un'emozione unica. Per te è un salto importante dalla Serie D alla Serie B che è molto difficile. L'idea che ho io poi magari è che tu abbia capacità e potenzialità tanto in espresse e tu puoi anche credere in più nelle tue possibilità. Questo gol ti può aiutare? Questo sicuramente non sta a me, non sta a me giudicarlo, però io lavoro sempre duramente nell'allenamento e vedendo che dà molti risultati ecco. Non è un mistero perché lo sanno tutti e non lo puoi neanche negare perché l'ha confermato anche il DS Marchetti. Loro a Città ti volevano in estate, ti vogliono adesso. Pare che il Vicenza però abbia detto no, c'è un nico. Io sono contentissimo di stare in questa piazza, come ho già detto, ma dall'inizio dell'anno e voglio continuare il mio percorso di crescita qui perché vedo che comunque il mister e il presidente e il direttore sportivo credono molto in me e io voglio ripagare la loro fiducia. Quindi magari anche se tu dovessi giocare poco, preferisci restare qui che andare a giocare in Lega Pro? Sicuramente il mio obiettivo non è, non pretendo sicuramente di giocare titolare o cosa, io sono a disposizione del gruppo, della squadra e cerco di fare il massimo ogni volta che il mister mi chiama in causa cercando di fare un gol come oggi. Oggi c'era in panchina anche Rajic, pur acciaccato, malandato, però il mister ha preferito te, ha messo te, quindi è un bel segnale per quanto ti riguarda. Ma sì, è un bel segnale. Il mister fa delle scelte anche in base a quello che vede durante la settimana. Filippo, sappiamo tutti che è un buonissimo giocatore così, soltanto che è stato poco bene durante la settimana, si vede che per questo motivo mi ha scelto me, però non che io sia superero e lui sicuramente.